Cosa l'azzo è lì? 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 L'azzo è lì esempio, per trovare alcuni errori decisamente chiari. E tutti nella stessa partita. Protagonista guarda caso sempre l'arbitro Massa, che nella gara di ritorno contro l'Inter all'Olimpico frenò la rincorsa della Lazio al secondo posto, occupato dalla Roma. Due espulsioni, un rigore dubbio e non era azzurri e l'ha chiamato di un fuorigioco inesistente a Dicandreva, tutto solo davanti ad Andanovic. Indirizzarono verso l'Inter una partita che la squadra di Pioli avrebbe sicuramente meritato di vincere. Alla fine quella stagione culminò con la qualificazione in Champions League, anche se attraverso i preliminari. Cosa che non è successa nella stagione 2010-2011, quando alla fine al foto finisce la spunta l'Udinese per una questione di scontri diretti. Obiettivo sfumato per un soffio e per un errore arbitrale, che ancora oggi fa guidare allo scandalo. La partita era un Napoli-Lazio, risultato finale 4-3 per la squadra di Mazzarri. Nel mezzo un gol solare di Brocchi non visto dall'arbitro Banti. Per trovare un altro chiaro e pesante errore arbitrale basta tornare al derby dello scorso 30 aprile, quando una simulazione distrotta ma in area regola alla Roma il rigore del momentaneo 1-1. Episodi che fanno il paio con quello di domenica contro la Fiorentina. Un errore che vale tanto, in attesa di capire quanto possa essere utile il bar in occasioni del genere.